Il futuro della sanità è stato al centro di un incontro che si è tenuto ad Ancona, i particolari nel servizio. Innovazione e sviluppo nelle politiche sanitarie, questo è il tema al centro del convegno che si è tenuto nell'auditorium degli ospedali riuniti di Ancona. Nell'epoca del massimo sviluppo tecnologico, ha detto Giulio Argalia, presidente del club occidente che ha promosso l'incontro, la professione del medico va calibrata, bilanciando tecnologia e antropologia. Uno stato moderno, ha proseguito citando Franklin Delano Roosevelt, si misura sulla capacità di risolvere due problemi, educazione dei bambini e soprattutto cura dei malati. Grandi successi terapeutici vengono quotidianamente conseguiti, è stato quindi detto, ma vi è anche una insoddisfazione crescente, sia tra i medici sia tra i malati. Il governo clinico e la dignità del malato, ha sostenuto Argalia, devono tornare ad essere il baricentro del pianeta sanità. Una sanità che sia però servizio e non potere, ha proseguito, e patrimonio dell'intera comunità, con valori eterni.